carissimi fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi l'universo è pieno della grazia di dio tutta la terra è avvolta nella sua grazia anche se tanti voltano le spalle a questa grazia e la respingono dio non cessa mai di amare le sue creature e di avvolgerle nella sua benevolenza poiché in dio c'è solo amore misericordia se il nostro cuore riuscisse a comprendere questa realtà dice la ma la madonna me giugorio moriremmo e lei parla di sé prima di tutto se comprendeste quando vi amo morireste di gioia ma è così la grazia di dio è enorme nell'antico testamento si aveva sempre paura che dio si manifestasse perché è troppo grande la sua presenza e dio è amore vogliamo iniziare queste breve riflessioni fratelli con rivolgendo allo spirito santo un inno che troviamo nel breviario e ascesi il buon pastore alla destra del padre questo buon pastore gesù veglia il piccolo greggio con maria nel cenacolo dagli splendori eterni scende il crisma profetico lo spirito santo che consacra gli apostoli araldi del vangelo vieni o divino spirito con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria o luce di sapienza rivela ci il mistero del dio trino ed unico fonte di eterno amore ardad e con quanta afflato la chiesa invoca lo spirito di dio e il salmista ci invita a ripetere manda il tuo spirito signore e tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra e quando la terra e quando l'umanità stessa fratelli cerca di essere rinnovata oggi la chiesa ricorda un grande maestro san san alberto magno magno definito tale perché grande fu la sua opera lui si racconta di lui che quando era studente non riuscisse molto negli studi ma volendo abbandonare la scuola dove si trovava gli si manifestò la madonna che gli disse che l'avrebbe accompagnato tutta la vita e infatti fu dotato di una intelligenza straordinaria lui oggi ha ricordato per le sue opere per la sua scienza aveva una capacità non solo di apprendimento ma anche di insegnamento tanto che poi arrivò a diventare professore all'università di parigi dove ebbe tra i suoi allievi un uomo che è ricordato nella storia appunto per la sua grande intelligenza un genio dell'umanità san tommaso d'aquino bene la madonna di premissa che gli avrebbe dato questa intelligenza per fino a un certo punto infatti quando ebbe circa 80 anni dopo essere stato anche vescovo della tisbona e di aver composto tante opere scientifiche da ritenuto in qualche modo il padre della scienza moderna lui cominciò a praticare la scienza che non fosse soltanto una speculazione scientifica ma ricerca anche concreta verso la realtà e negli 80 anni un giorno mentre faceva una lezione perse totalmente la memoria e appunto quando gli aveva detto la madonna si avverò cioè che l'avrebbe l'avrebbe accompagnato lei finché sarebbe stato necessario e la chiesa l'ha anche proclamato dottore della chiesa maestro ma è bello notare nella vita di questo santo come nella vita di tanti altri santi che lui era di famiglia nobile ma la nobiltà e la ricchezza non lo allontanarono da a dio anzi lui rinunciò a tutto per dedicarsi nella vita religiosa alla povertà e dedicarsi alla cura delle anime alla predicazione cosa che fece tutta la vita era la sua vita se noi guardiamo gli stati come la polonia l'ungheria all'inizio dell'esistenza di questi stati sono stati dei santi persone che hanno dato la loro vita per dio hanno consagrato anche i loro stati le loro nazioni il cuore immacolato di maria ma è sorprendente dire come quello che oggi rinuncia alla fede cioè la politica l'economia in altri periodi fratelli in altri periodi queste realtà non hanno allontanato i potenti della grazie di dio anzi e si hanno approfittato la loro condizione per dedicarsi ai poveri per dedicarsi agli umili ecco il bisogno che noi oggi come società fratelli abbiamo bisogno di ritrovare guardiamo la scienza oggi la scienza vuole essere laica cioè non vuole fare riferimento alla grazia di di dio pur vedendo le opere di dio ma perché questa certo la scienza deve seguire dei criteri scientifici ma non non per questo lo scienziato deve essere senza dio deve essere laico cioè distante dalla fede tutt'altro tutt'altro sant'alberto magni ci ne dà un grande esempio come fede scienza non hanno malattato tra di loro si sono aiutati e abbiamo anche nei tempi moderni guardate i grandi scienziati enrico medi che forse proclameranno beato lui un grande credente quando parlava in televisione negli anni sessanta e settanta sorprendeva quando ci fu il primo atterraggio sulla luna lui commentava per la rai quell'opera e ruggero orlando da new york dice ma chi è quel tale che parla così bene che spiega le cose in una maniera così precisa bella e lui era uno che spiegava anche le cose più difficili in maniera più semplice possibile grande uomini di fede oggi fratelli guardate quando la scienza è lontana dalla fede ma non perché ci sia contrasto tra scienza e fede tutt'altro una volta una mamma mi avvicinò dicendomi dopo la celebrazione della santa messa che suo figlio era uno scienziato direttore di un laboratorio di ricerca famoso in italia però si era allontanato dalla fede e le chiedeva ma è possibile che uno scienziato possa avvicinare alla fede certo fede e scienza non sono in contraste tra di loro hanno metodi diversi ma non per questo lotto l'un con l'altro perché tutto viene da dio tutto viene da dio oggi noi abbiamo tanti scienziati che accolgono la fede anzi proprio la scienza la vicina a dio vedendo la ricchezza la bellezza del creato ecco fratelli san d'alberto magno oggi ci invita a questa riflessione a ricercare dio anche nelle cose nel creato anche nelle realtà scientifiche perché tutto quello che esiste è già stato creato lo scienziato non inventa lo scienziato scopre quanto è contenuto nella natura e ne fa delle applicazioni ma la redice c'è sempre l'opera del creatore che è benedetto nei secoli e nella scrittura oggi la chiesa ci mette davanti il libro dei maccabei un libro scritto un 150 anni circa avanti cristo dove si racconta come un descendente di un successore meglio di alessandro magno che occupava la palestina la sitia voleva creare uno stato unico e quindi cominciò ad opprimere gli ebrei impedendo loro di praticare la legge di mosè di leggere le scritture che devono essere bruciate di avere testimonianza anche fisica come la circoncisione per significare che appartenevano al popolo di dio ecco questo re vuole imporre il paganesimo obbligando tutti a vivere da pagani rinnegando alla fede e tanti per paura della morte subirono queste vessazioni e si piegarono ma tanti altri preferirono morire piuttosto che tradire il signore e sentiremo nei giorni prossimi fratelli come ci furono delle persone che preferirono rischiare la loro vita piuttosto che rinnegare dio oggi noi siamo in tempi non simili ma c'è qualcosa di comune anche se questo non viene fatto in una maniera violenta ma in realtà si sta creando un mondo dove la gloria di dio non è più accolta non è più adorata e non è più praticata la fede tutto deve essere laico senza dio signore gesù tu sei venuto a rinnovare l'umanità tu sei venuto a cercare ciò che era perduto e tutto il creato canta le lode di dio i cieli narrano la sua gloria i cieli narrano la gloria di dio e tutte ogni creatura una lode al padre e ogni realtà creata da la gloria colui che ha creato signore gesù fa che l'umanità intera torni torni al padre torna allora all'adorazione di colui che è eterno e che ha creato l'uomo non per la morte ma per la vita eterna suscita nel cuore anche dei sapienti dei dotti la con umiltà di ricercare la gloria di dio a te signore sagra la nostra lode la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli amen e tu vergine santissima dotato di grandi doni ma ti sei fatto umile angella ecco l'angella del signore ecco la serva del signore ti sei proclamato tale non ti sei innalzato ti sei umiliato per questo si è stata esaltata davanti al cuore di dio si è stata proclamata regina del cielo e della terra oggi come regina del cielo e della terra guida l'umanità intera e guida la santa chiesa ad accogliere gesù a proclamare le sue lodi a servirla anche al rischio della vita senza titubanza perché a lui appartiene la lode e la gloria e lui la nostra eredità eterna lui è il nostro vanto la nostra salvezza a lui si innalza la nostra lode per tutti i secoli dei secoli amen il tuo amore di madre come guidò sant'alberto magno a una vita luminosa guida oggi tutta la tua chiesa a condurre la stessa vita a gloria di gesù e per il bene dell'umanità intera amen